signori siamo appena partiti dal capannone di antonello alla guida c'è il grande mitico caddy 55 che si sta cagando in mano qualche commento a caldo prego grande commento esattivo pigia pigia se no ci riprendiamo righi solerte incida il buon caddy a spingere i cavalli di questo motore che ha ma caddy non vuole verificare se ha tutti questi cavalli non bene non adesso ci sono